Ho visto che è arrivato anche l'autore dei disegni, delle opere che sono raccolte da Leonardo Di Sabia, Jean Delip, che salutiamo e il quale ha esposto alla biblioteca di casa natense il tritico che è applicato a Leonardo Da Vinci per dare la possibilità di omaggiare Leonardo Da Vinci attraverso un'opera di un teore sindicato Vorrei rinunziare anche la dottoressa del Duvici, non di meno il compagno del poeta che ha al suo attivo trentina di libri tra i quali libri dedicati all'opera leopaliana che moltissimi hanno solito fare una recensione puntuale ed il quale sull'infinito abbiamo una sua prima elaborazione che proprio quest'anno è stata in sessità anche di prevenzione l'abbiamo tra il pubblico e la ringraziamo particolarmente assolutamente Nelle sue battaglie anche quella per la dignità non esampassa da Leopardi alla dignità perché appunto vuole marcare le leggi e quanto di diritto sta nella loro potere nella loro salvaguardia come fenomeno culturale quindi ha scavalcato montagne oggi e rime per non solo per poter accompagnare appunto il poeta Wilkinson ma anche per poter dare testimonianza della diciamo della porta culturale sempre delle sue battaglie culturali con la presenza in questa sede del sito grazie grazie